Spera Spina, domani Consiglio Comunale si affronta lo statuto della Funierice. Sì, domani abbiamo la convocazione del Consiglio Comunale, si vota una modifica allo statuto della Funierice. È l'ennesimo tentativo di modifica dello statuto, c'è questo ripetersi continuo praticamente a demandare lo statuto. Dico per questioni di opportunità in una situazione del genere in cui si sa che ci sono delle difficoltà perché ci sono anche pendenti delle cause, secondo me per ragioni di opportunità non è giusto esporre il Consiglio Comunale dinanzi a questa responsabilità. Lo dico con contezza di causa perché in Regione è stato approvato pochi giorni fa un emendamento proposto dall'On. Safina sul disegno per le proroghe dei commissari straordinari dei liberi consorsi, il quale emendamento è stato approvato con i voti favorevoli di 30 dei deputati e attraverso questo praticamente il dottore Cerami non verrà rimosso dall'incarico a breve. Allora dico per ragioni di opportunità, visto che questa modifica dello statuto viene spinta anche dal commissario straordinario del libero consorzio, per ragioni di opportunità sono convinto che il Consiglio Comunale dovrebbe aspettare quanto meno prima di porre in votazione una modifica così importante. Devo dire che in questi anni c'è stato un susseguirsi di modifiche, di alternanza nelle governance, un'attività, devo dire io frenetica, non capisco ancora perché l'amministrazione va davanti con questo genere di cose. Mi auguro che in questo momento si rifletta e si rinvii qualsiasi tipo di votazione.